A seguito di un terribile incidente in monopattino un biellese che negli ultimi anni si era trasferito in Liguria è in fin di vita. Paolo Battistello, 53 anni compiuti proprio oggi, impresario edile, residente a San Lorenzo al mare, ma originario di Vigliano a Biellese. Luogo dove spesso torna. È ricoverato ora in gravissime condizioni al Santa Corona di Pietro a Ligure per le ferite riportate in seguito alla brutta caduta col monopattino elettrico avvenuta nei giorni scorsi. Nell'impatto ha picchiato con violenza la testa. L'incidente è avvenuto lungo il percorso pedonale all'inizio del centro abitato del paese Ligure. Gli inquirenti sono ora alla ricerca di dettagli utili che possano far emergere l'esatta dinamica dell'incidente che ha portato Paolo Battistello in fin di vita. Non ci sarebbero testimoni al vaglio delle forze dell'ordine le immagini del sistema di videosorveglianza dislocate nel perimetro del distretto marittimo. A notare il corpo riverso in terra un camionista di passaggio che ha immediatamente allertato i soccorsi. Tra le ipotesi vi sarebbe quella di una caduta apparentemente di poco conto dove potrebbe aver perso l'equilibrio ad una velocità non troppo elevata ma tradirlo l'impatto del capo che potrebbe aver sbattuto violentemente contro una ringhiera. Anche nel biellese ora si attendono con grande apprezzione e notizie sulle sue condizioni di salute.